Buongiorno, oggi è sabato 19 novembre, nuovo appuntamento con la rassegna stampa in breve di video 33, una notizia delle ultime ore, incendio ieri sera intorno alle 22.30 sul tetto di un'abitazione lungo la strada per il paese di San Genesio. Nel giro di due ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, nessuno è rimasto ferito. In regia abbiamo José Núnez, con il suo aiuto diamo un'occhiata alla situazione di questa mattina intorno alle 6.30 in Val Pusteria, un'immagine suggestiva che ci arriva da Plan de Corones, vedete le nuvole che coprono in parte il centro abitato di Brunico, perturbazioni che ci accompagneranno per l'intera giornata di oggi, piogge diffuse e nevicate in quota. Andiamo a vedere con l'aiuto della regia, le aperture dei quotidiani locali che troviamo oggi in Edicola, il Corriere dell'Alto Adige profughi, l'Unione Europea sia solidale. Juncker, il commissario europeo a Bolzano, l'Italia non va lasciata da sola, Compatcher dice necessarie azioni efficaci. Urbanistica, trasloco contestato, progetto fermo, la cooperativa Fiume denuncia il comune capoluogo. L'autista pirata incolpa la madre e poi confessa il ciclista investito, sappiamo sabato alle porte di Bolzano. La cronaca cura dell'Alto Adige, Juncker carezze dall'Europa, il Presidente dice sui profughi, non vi lasceremo da soli. È pronta la mensa per 200 poveri in Piazza Verdi, concreto aiuto, risposta immediata a coloro che hanno fame e hanno freddo, sarà attiva a partire da metà dicembre. Domani stop al traffico per le bombe, disinnesco degli ordini bellici trovati nella zona di Bressanone. La cronaca linguatesca, quella del quotidiano Dormiten, sappiamo la ricerca del direttore sanitario, tutti bocciati, interviene l'assessore, l'assessore alla sanità Marta Stoker, la risposta del direttore generale della SL Thomas Schell. La visita di Juncker a Bolzano, non sono mancate le polemiche per l'accoglienza da parte degli Schitzen di fronte a Palazzo Widman. La cronaca ancora cura il quotidiano Tagess, Zeitung. L'apertura è dedicata alle malghe, al tuo tesine, sarebbero una ventina, quelle date in affitto a grossi imprenditori del Nord Italia. Tutto questo per riuscire ad ottenere i contributi dell'Europa, la politica sarebbe senza potere. In questo caso anche il quotidiano Tagess, Zeitung, dedica spazio alla visita ieri a Bolzano del Commissario Europeo. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33. Grazie a tutti.